Siete invitati a sedervi a prendere posto in sala. Bene, sono grato al Presidente del CET di Torino per il gradito compito che mi ha dato di darvi il benvenuto in questa particolare cerimonia, questa festa particolarissima. Non si tratta più dell'esamen o festo di tutti gli anni che i gruppi aspirantisti italiani e stranieri celebrano verso il 15 di dicembre. La data è stata anticipata per una ragione, perché quest'anno si celebrano i cento anni in tutto il mondo, per conto e per iniziativa dell'UNESCO, cento anni dall'anno in cui è deceduto Zamenhof. Zamenhof viene ritenuto tra i dieci più importanti personaggi dell'umanità che quest'anno vengono celebrati. Sono felice che sia presente in questa sala, il dottor Silvio Magliano, che ha dato un contributo fattivo essenziale affinché la figura di Zamenhof, il nome di Zamenhof, continuasse a essere presente nel panorama cittadino con un giardino, un degno giardino. Se non fosse stata la sua capacità, il suo coinvolgere, la sua sapienza non saremmo mai riusciti. Per questa ragione io inviterei, in questo momento c'è troppa luce per i miei occhi, per cui non vedo nessuno. Ah, benissimo, se lei potesse venire e dire due sole parole, perché vogliamo proprio tutti quanti esprimerle la nostra gratitudine per la sua presenza e per la sua vicinanza. Grazie. Buonasera, veramente buonasera a tutti. Per me è stato un piacere iniziare questo percorso, perché quando la prima volta siete venuti da me in Consiglio Comunale mi avete non solo posto un tema, perché i temi della toponomastica, cioè che nomi diamo alle vie e ai luoghi della città, e anche che tipologia di nomi diamo ai luoghi e alle vie della nostra città ha un senso. Quando mi avete posto questo tema mi avete fatto voi un regalo, perché mi avete fatto entrare nella storia, nella cultura e nel tentativo fattivo che Zamenhof ha messo in atto con l'esperanto. Per cui diventando un amico di questa buona causa, cioè rimettere un luogo che fosse un luogo intitolato degnamente a Zamenhof, rimetterlo, sì, rimetterlo, mi avete permesso di conoscere quest'uomo eccezionale. Il fatto che a giugno di quest'anno, per questo centesimo anniversario, siamo riusciti, tra l'altro, a intitolare un luogo che è un luogo di grandi contraddizioni, di grandi intersezioni tra diverse culture, perché il luogo in cui è stato, a cui è stato intitolato questa piazzetta Zamenhof è un luogo dove sono tante culture diverse, tante lingue diverse che si parlano, perché è un luogo della nostra città con un grande tasso migratorio. Per cui per me era un piacere e anche un dovere essere qui questa sera, perché questa storia, questa amicizia possa continuare. Mi fa veramente piacere che anche voi continuate nella nostra città a portare questo tipo di messaggio e di linguaggio, perché abbiamo veramente bisogno di tutto ciò che unisce, rispetto a tante posizioni che invece cercano di dividere. Per cui grazie e buona festa a tutti voi. Grazie tanto, dottor Silvio Magliano, per queste parole così toccanti. È un anno particolare e volevo sottolineare un fatto. In questi ultimi tempi si parla molto di identità. Ci sono tanti movimenti identitari, identitari nazionalistici, identitari di vario genere e mi sono chiesto qual è la caratteristica del movimento esperantista, del messaggio di Zamenhof. È quello di dare ai cittadini dei vari stati e quindi una identità superiore. Convogliata una lingua che ha questa funzione. Stabilire, di confermare una identità. Può essere una identità regionale, nazionale e in questo caso internazionale. Un'altra cosa che mi è grato sottolineare è vedere come nel mondo esperantista non esistono preclusioni, pensieri di tipo antirazzista. Siamo tutti grati a questo grande personaggio, un ebreo. Tutti gli esperantisti quindi hanno una particolare attenzione, quasi venerazione, per un ebreo così importante. Come l'avremmo con una qualsiasi altra personalità tipo Gandhi appartenente a qualsiasi religione e a qualsiasi movimento umanistico. Detto questo vi voglio proporre il programma di questa sera che è molto interessante perché avremo una conferenza che verrà tenuta da un esperantista straniero, Lou Wunsch Reushofen, che è un matematico, che è un esperantista, che è presidente dell'associazione Esperanto Land, che è stata istituita nel 2003. Parlerà di Zamenhof e la sua opera oggi. Seguirà la consegna degli attestati agli allievi del corso di secondo grado e in seguito alle ore 18.45 ci sarà uno spettacolo teatrale in italiano e in esperanto. Si chiama Genesi Pentateuco I della compagnia La Confraternita del Chianti. Questo spettacolo è stato presentato quest'anno in ambiente esperantista durante l'ultimo congresso nazionale a Policoro Eraclea. Ha avuto un notevole successo e siamo così contenti che possa essere presentato anche qua. Alle ore 20, come conclusione, ci sarà un ricco buffet, musica, balli e, come dice il testo che ho sotto gli occhi, pettegolezzi, natalizi, eccetera, eccetera. Con questo vi do il benvenuto e vi auguro una buona serata. ho dimenticato di dirvi che tra un mese, il 29 del mese prossimo, siamo già nel 2018, a Palazzo Cisterna ci sarà una esposizione sulla vita e sull'opera di Samenhoff. A questo punto... Grazie. 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 Buonasera, allora, in questo momento c'è la presentazione della premiazione dei corsisti che hanno finito l'anno scorso il corso di secondo grado. Sarà una cosa abbastanza breve e poi seguirà la conferenza della serata. Della nuova grada? Della nuova grada, anche il primo grado. Per chi non lo sa, in genere i corsi si dividono in tre livelli, c'è il livello base, il livello intermedio e poi c'è quello avanzato. quest'anno non abbiamo ancora nessun premiato del terzo livello, però del livello avanzato abbiamo... comunque penso almeno un paio di partecipanti ai corsi precedenti. Allora, io inviterei sul palco, dunque, la Valentina Boldrescu, che era una delle nostre allievi brillanti di quest'anno. Grazie. 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 I miei sono in facoltà magari구�oversi. Mi è chiesto a Nina Madda, anpurare anche aもの... Ancora non è... Si, manca ancora un sacco di gente che aveva assicurato che sarebbe venuta, quindi probabilmente arriveranno dopo... glieli daremo dopo la rinfresco finale, va bene. Giulia Gerbi, anche a Scinestas, Cristiano Giambrone, sarà una cerimonia molto breve, glieli diamo poi quando si mangia. Allora, posso invitare Emanuele Regano, almeno lui c'era, lui invece non solo ha finito il corso di livello avanzato l'anno precedente, ma è stato anche uno degli nostri elevi più brillanti, nonché adesso è praticamente già da un bel po' un istruttore del corso di livello base, gli regaliamo il Bocabolarione, il famoso PIV Pleno Illustrito a Vortaro, lo scarti e lo fai vedere per chi non l'ha mai visto, che tutti si chiederanno com'è, è solo un vocabolario, non è. Ci teniamo particolarmente, Emanuele è stato di grandissimo aiuto, come tanti altri, ma lui non si è mai tirato indietro niente quest'anno e l'anno scorso in varie attività che abbiamo fatto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti per la vostra pazienza e per il ritardo e niente, ascoltiamoci la conferenza di Lou. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. antio centri degli aroi al mondo. La tago, la decvina di Dezembro, è memoria per il nasceggio di Samenhoff in 1959, in la decvina di Dezembro, se Samenhoff ne istis apparte entusiasma per tio che ogni festu giustelian nascit stagion, doli memiam demandisin ciò ogni nepovas festi ion alian, car li constatis che in la deccepa di Dezembro 1878 li ha inauguris la unuan versillon di Esperanto, la pra Esperanto, di cui ogni conosci la linea in mal amicchete delle nazi cadò, cadò, iam tempestà. Mal amicchetto delle nazi, falos, falos, iam estes tempo. Purti, estes due varianti, festi la decvina di Dezembro, o la mesura di Dezembro, che estes ancora tre varianti, cui estes la tago dell'esperanto libro, Ciaria, libroi estes la baso de mia cultura, de mia cunestado, quancam certe in tertempe la parola cultura ludas tre gravam rolon. Chi am Samenhof pubblicigis sian unuan libron, li parolis pri celcai cefai problemoi, cui in solvi estes necessari, cae tiui estes unua, che li volis che tiucilingvo estu tre facila, li diras facila che ludo, Do, rapide lernebla. C'è la tua tasca, la tua problema estis che li volis che tiuci lingvo estu tui lernebla, sen depende de tiuci estus acceptita della mondo, au ciun nurcaicai homoi parolos cin. C'è tiuci estis la comenzo della esperanto parol comunumo, ciu existas, sen depende de tiuci la mondo interessigias pr'inia lingua o ne, simple gi estas, cai gi vivas. C'è la tria tasca, ciu nimetis al si, tiuestis serci rimedon por atingi che la tuta mondo acceptu tiuci lingvon, ca ne tractugin cun indiferentezzo. Cai tiuiu sense estis la starta signalo por la esperanto movado, ciu provas disfastigi esperanton en la mondo. C'è eblimi tui diru che tiuci esperanto movado, oggi su Dio ne successis atingi che la tuta mondo parolou esperanton, o che multai homoi parolou esperanton, se non iapovas diri che creigis tiuci esperanto parol comunumo, tiu lingua comunumo, unu plia lingua comunumo en la mondo. C'è certe se ni compara Zamenhof cun aliai inventistoi della mondo, ni devas diri che li survojigis afferon ciu estas trebasa alla tutta homa vivo. Li survojigis lingvon. Homma convivado ne estas pensebla sen lingvo, sen comunicado inter homoi, neniu ec tribeto exista sen lingvo. Homoi estas estas stagioi cun lingvo, cun suffice elaborita lingvo. C'è Zamenhof estas giuste la unica homo ciu survojigis lingvon, ciu succesis anko survojigi lingvam comunumon. cai facte estas stagioi cun lingvam comunumo anko crescas cai crescadas. Oni povas vidi jam che la unuae adresaroi de Esperanto montris daoran crescon della homoi ciu interesigis pre Esperanto. existas diversa estudoi pritio ciel evoluis la Esperanto mondo, cai uno e tiu studi occupidges pri la nombro de activai internaziai, tiu nomata, ne registare organizazioi ciu usas Esperanto. cai facte estis eble de quinn en la jaro 1910, cai tiam tiu crescis cai crescis cai crescis gis al proximum septec en la jaro 1904, cio estas la fina jaro cia la studo estis giuste tiam. Oni povas constati che tiu Esperanto comunumo ne crescis per tiu che unu sola organizazio crescus cai crescus, sed same ciel estagioi, ciel vivai estagioi adonigios cielo, pos cielo, pos cielo. Nipovas anco constati che Esperanto disfastigios pli cae pli en la mondo. En 1950, proximum dudec landai associoi estis membro dea universala Esperanto associo, cai hodio estas proximum septec membroi dea univers... landai associoi membroi en universala Esperanto associo. Nipovas anco constati che in diversa e che Esperanto en iris o crescis in diversa e crescocampoi che mi vidas cefe ses crescocampo dea Esperanto cae dell'Esperanto comunumo. Do estas tie che la nombro de rencontigioi crescis, che anco multae rencontigioi crescis. Estas tia ne signifas che in cioi quignaro e cioini rigardas ili crescas, sed en la pli longa rigardo ili es crescas. Tre videbla estas la progresso de Esperanto anco per tio per la rigardo alla musico. En la sessdeca iaroi aperis quar Esperanto music albumoi ca intertempe en un iar deco aperas pli olsent Esperanto music albumoi ca intertempe la Esperanto musico suficias por plenigi tutan vesperon ca via havas musicon de cioi spezoi ca nenur de mesa qualito sed anco de alta qualito. Tria campo de progresso de Esperanto estas tio de la denas culoi. En la sessdeca iaroi unui publicigis ancora la nomoin de la Esperanto denas culoi ca etiam estis proximum cent que estis publicigitei en la jar libro de UEA ca odiau da estas tudo el mil nao cent nao decvin que diras que estes mil esperanto denas culoi que inter tempe certe aldo ni gist il multe que varsaine estas du mil que estes esperanto denas culoi de la dua ca ets de la tria generatio dotio signifas que unu el agiavoi estis iam mem esperanto denas culo. Unu grava cresco campo estas anco africo ca aliai exter europa e landoi exemple en nepalo en 1910 estis eble quin esperanto parolantoi que iel est izvideblai que inter tempe versaine mil homo tie lernis esperanto que ocasas regula himalaya esperanto migrado anco en lando que el indonesio esperanto iam al venis en burundio en nicaraguo en multa eliai sud americae cae africa landoi cai tiui homo eplicae pli videblas la procentajo de europanoi en la exemple ce facebook mal crescas cai sainas que nun estes ce proximum quindec procentoi iam estes sesde quind procentoi do la homo exter europo gainas peson tiuci evoluò de esperanto della literatura cae della lingua allogis anche os scienzistoin cef esperanto parolantain scienzistoin cae establigis la facode esperantologio cae interlinguistico chi riguardas chi o casas ca intertempo almeno cent publicagioi cent articoloi aperas ciu iare pri esperantoio cae last se ce fe tempelast lo gravezzo certe in unua loco estes la interretto la vortaro ed esperanto estes nun ofte troveblei en interretto cae li crescas cae crescas cae ancao estes troveble nun exemple la encyclopedia la Wikipedia en esperanto cio estes factus simile grande cio la dana o la slovacca o la slovena wikipedio ne la croata wikipedio ec cio ec estes tie che la tuta angla wikipedio quin milione d'articoloi disponiblas en esperanto estes automata traducado sed ni povas legi ginge estes suffice bona cae vieble opinias cae ja ali flanque estes ancao mal crescoe cae la locae grupo mal pli grandas nun au que ue a mette mal pli grandas sed nu devas consi che la tempo es chan gigas ca la recepto de hiero ne plus estes recepto por hodio cae facto ni devas constati que la loca grupo perdis iom da al logo protio che tre faciles per de la interretto havi contacton al homoi tre multe diversi landoi mi exemple havi skype en conversazione anto quelca tempo con brasilano cae anglo cae franzo fact la anglo ecce logis en russio cae tio tre facile fareblas la demanda estes chial ancora iri alla local grupo multe homoi almeno saine demandas in tia cae ce ue auni devas constati che multe el producto estes paperae la jar libro estes papera cae la informo che un jihavas troveblas anco gran parte en interretto la revua estes cefe papera cae di estes monata do la ciutat gai esperanto gazeto in interretto informas anco tre rapide la libro servo offertas paperae in libroin cae estes multe homoi chi hodio appena o plus legas paperae in libroin sed cefe eletronica in do mi havas la impressa que tio estes pli shanjo de tecnico ol principia malfortillo de esperantoio ca mi joias que intertempe etch tre multe esperanto parlantoi comprenas che esperantoio crescas crescas en interretto sed crescas anco exterret exemple en hungario en du mil quar la scienza academio reconis que esperanto estes viva lingvo cai secve esperanto estes allassata alla universata sistema cai hungaria studentoi devas trapassi examenon pri fremda lingvo o almeno iel pruviconon pri fremda lingvo pri uno o du ca ne povas fari tion per esperanto cai secve la jaro du mil intertempi iam plio tridie quin mil homoi trapassi stian stat reconitan examenon pri esperanto vi habla audis pri la successo de esperanto ced du lingvo fact estes tie che tie plio l'uno milion da homoi iam inscribidgis en la angla lingvo n kurson estes ducent mil qui inscribidgis en la hispan din van kurson venus portugal lingva ca eble poste venus pliai ca cini o net tut neglect ebla lando en la mondo ciut aga publicigas novajon en esperanto cefe pri cini o sed anca iamete pri exter lando ca cini o en tut dungas quardec homo in plen tempe port tiu ci ca por aliai reteioi doni ricevas subtenon anca o tie de unuo pae landoi semi contrasto dotio ci estis pri la esperanto comunumo pri tio chi on i facta atingis ca semi nun ali flanque rigardas alla esperanto movado chi u havas la tre foran celon che iu tag ciui homoi en la mondo parolu esperanto tiam oni devas diri che almeno por la exterra mondo la successo ne estas tie clare videbla sed simple ni estas ancora tre tre fort de nia celo almeno tie l'opinios la exterra mondo cai existas cai successo eo successeto unesco de tempo al tempo faris favoran resoluzion sed en tutte ciu opinia sceni simples revulo pri iu utopio do semi nun vola selecti ciu prefere mi ena publico estu parto de tiu ci esperanto comunum ciu esta successa auci mi estu parto de la esperanto movado ciu successo estas almeno netre reconata mi simple diras mi preferas la esperanto comunum mi preferas che estu reconita la successo ciu ni facta tingis ciu ni ne mesuru min lau iu tre altai esperoi ciui eble iam realigios sed povas dauri cae dauri ni devas anca se ni comparas tiun du vorto in esperanto movado ca esperanto comunum rigardi ciu infacte transportas la homo la vorto ni vidas en catalunio s'independesmo vadon cae tio signifas que li movasin sed li esas ancora suficio forde s'independesmo contraste pri slovacio oni ne parolas pri s'independesmo vado pro simpla causo ili atingis sian s'independeson cae anca in slovenio ne plus existes ius s'independesmo vado do movado signifas que oni estas sur voie se ni parolas pri comunum ni constatas que ni am alvenis que ni havis successon que que ni plus havas successon estes anco alia argumento cio estes mal nova cae cio berorinde ne successis convincila esperanto parlantoin tio estes que la sociologoi diras se ni regardas latuton de tio cio o casas per esperanto tio simple la sociologio ne estes movado tio estes comunumo estes tie che movado estes io cio movidges ed estes nur etai partoi estes nur mai grande parte della activaggio e qui infatti estes in la cadro de tio ci esperanto comunumo de tio ci esperanto movado perdono do la comunumo estes latut grande affero que la movado estes io mai grande parte que ne estes tie que homo estes au nurai comunumanoi au anco movadanoi sed estes tie que la homo estes dun parto de sia tempo occupitae pri comunumai afferoi ili babilas ili comuni trincas cafon ili promenas ili auscultas preleguen pritio oieno ca dun parto de sia tempo ili instruas esperanto o varbas se tio estes relativamente grande parto to la sociologoi recomendas que ni parolou pri esperanto comunumo qui la generale ca grande affero unu plia argomento cion mi donas por la uso de la voto esperanto comunumo estes la opinio ca la sio o pli bonne dirite mis sio cion havas la linguistoi pri esperanto estes io mi rige sed la linguistoi la pli multo della linguistoi che mi supposas che eble ec naudec procentoi della linguistoi generale gis nun ne successis capti kio odio estes esperanto multai credes che nur tre mal multai parolas esperanto trove las citagio che esperanto che ne existas librio en esperanto existas ancao citagio che ne existas autoroi che ivercas in esperanto io homo diras che ne estus denasculoi che in tutte ne estus culturo che temas pri professori del linguistico che ne demandas in cial vi ne pova simple rigardi la facton da oras quin minuto ciò ne vi deve simple rigardi an interetto che amicchino de mi diris nu vidu est stia che ili lernas pri esperanto in sia i basai corso e dell' linguistico che tiam mili est informitai che normal multai homo parola stionci lingua o tionci comunichilo in chiun è farigis lingua char giusti li concludas la facto che ne appena usas esperanto in chi li credas che ne est lingua che gi po vus farigi lingua se tion ne ocasi cai postiuci informado cio est relativi generale in la basa e corso de linguistico cio in la homo ricevas cio mili est eble dure chiara ili ten stionci opinion che li confirmas tionci opinion uno alla alia o tionci ne opinion tionci credon pri la reala mondo mi demandis al amichino de mi chi studis linguistico in che ci diris nu in mia istituto versane cioi homoi cioi professoro cioi docentoi credis che esperanto ne est vera lingua che si diris che mi havas la impreso che tio est tre buona comparo si diris che ili credastion esti simpla basa vera della mondo tie che niciui vivanta in la nord hemisfero della mondo niciui sias che insomero mesume est spivarmo o l'invintro car se vercas iun articolon en cioi flan cominciast iun ni ne sercias en lexicono su fact di el est do est as iu sense basa vero pri la mondo o fact basa mal vero pri la mondo cioi li habas che mi havas la impresion che tioci estas tre grava por niciui o tre grava almeno por la progresso de esperanto char severa est stil che la linguistoy raccontas alla mondo che esperanto ne è vera lingua diam ni ne havas iun ein chanson progresigi tion ci ne lingvon se ni iras al politicistoy che diras en conduco esperanton che ti iras al linguisto raccontu al mi che la linguisto diras nu presco nen niu occupijas nen niu presco nen tia afero cai ec anco tre grave mi opinias anco simplei homoi ne volas lerni lingvon cio nen niu parolas gravas che ni il attingu che la mondo siu pri tio cio iam est do pri la existo dell'esperanto comunumo cai nen nur pri la existo dell'esperanto movado dode homoi cio volas anto in igi esperanton cai mi devas diri che ius senza la uso dell'avorto esperanto comunumo cai ne de esperanto movado devenas anco de respeto cad anco al zamen of cer mi simple genijas fortege cia mi constatas che zamen of est considerata la sen successa proponanto de lingvo cio ecne farigis plena lingvo cai anstatau est 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 die anstatau est est die che zamen of jas successis li est is nestas tutte prezise diri che zamen of est is lingvo creanto cer li ne creis veran lingvo di commettis reguloin che li commettis votaron o radicaron de esperanto sed li metis lingvo proiecton se se punto est che li addona al tio est is anco homo chi creis la lingvo comunum o ebla anco tio ne povas dire ne est vera lingvo comunum se li creis la comunum della homo chi est pretai fare il tioci lingvo proiecto veran lingvon cali essi successa pri tio cai oni devas lau mia opinio clara substrecci che estas du gravi creo periodoi de Zamenhof unu anto 1887 ciam li creis la lingvon mem cala lia post 1887 cis eble 1912 ciam li didis gis homoi nun mi retirijas nun vi est capabla etion mem fari do tiuci tempo tiuci dure quini harui in cui li sorgis pri sia lingvo ca sorgis pri la homo chi parolis esperant ca corrispondadis ca provis anto in igie assozio ca estis daura helpanto al tiuci lingvo doli estis iu sense creanto del lingvo proiecto iniziat tinto de lingvo ca anco creanto de lingvo comunumo ca tiu esprimidges se ni parolas pri esperanto comunumo esperanto lingvo comunumo facte la lingvo gravas por ne erarigi la homoin mi volas doni alvi unu exemplon de tia lingvisto ciu raccontis alla mondo esperanto ne estes lingvo eses lingvisto ciu eses tre conata cai ciu havas altan renomon ciu eses sufici agia cai ciu ocupijas nun pri multe alie politicae temoi eses noam Chomsky mi havas almeno tri citajo de noam Chomsky ciu diras esperanto isn't a language esperanto ne estes lingvo ni povas auditi on en la interetto en youtube ciu mi demandis min ciu povis ocasi ciu povis ocasi che noam Chomsky ciu certe eses tre saggia homo tre intelligenta homo anca bon volem homo bon intenso homo certene fia homo raccontas tian afferon pri tiel bona affero ciel esperanto affero ciu ceterra anca iom subtenas la politica in celo in de Chomsky ciu estes intera lì mal subteni iom ete limighi la l'imperiismon deus sonno ca mi longa pensis pritio ca mi demandis min ciu estes sverre certe che Chomsky estes informita pri la facta usado de esperanto pri la literatura pri la denasculo e pri la tuta cultura ca mi vidis ne niun indicom pritio li parolis facti pri tiio che la ideo crei lingvon estes mis guida cae dotio signifas li li buone comprenis cia la esperanto linguist oe anca iom comprenis ne estis tiel ca samun of creis lingvon estis tiel ca samun of creis proiectone ciu povis farigi lingvon cae do mi supposis che li eble el iras de tiu cistato en lo comenzo o eble de stato mal multe poste ciam normal multai homoi usis esperanto cae mi lernis anca unua feron pritio mski ca tio estis che li consideras che li iel falas gravan differenzion inter la lingvon cium parolas laden asculoi in ciu in lingvon inter la lingvon cium parolas denasculoi dis proximum la sessa vivo iaro cae la lingvon cium parolas plen cresculo lingvon cium estis influita per la reguloi della grammaticistoy per la lernia instruado per ciu tiu normoi cium ne est simple automata el fluaggio de della lingvon usado ciae facto chomsky eses iom radicala per tiu chomsky nomas tion cion la infano parolas laden asculoi nomas tion lingvon ciae diras tiu norma lingvon cium la plen cresculoi parolas tion minevolas nomi lingvon cia domi pensis nu bonne sed in esperanto ya estes tiu cil lingvon di tiu ciden asculoi ili parolas esperanto ili ancora nestes nur soluloi ili havas gefratto ca estes esperanto rencontigio por familio dotia la infano inter parolas cium la tion cil lingvon devus esti lingvon ciae fin fin mi audacis almeno scribi ret messagion al iu professoro cio iam interviu al cil 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 marco aronoff ciae mi ricevis la respondon nu mi supposas che tio la cil cil devus esti lingvon cil poste mi decidis che mi curagigis min che mi fac describo al cil 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 vespera mi decidis che mi fac demandu al cil clarigou li iu met cia estes la situazio pri la denasculoi cil la cara cil cil ene de uno hora respondis esperanto estes lingvo por denasculoi do en la senso ciam esperanto denasculoi parolas gin gia estes lingvo do mi havas l'impression che simple per informado pri tio kio reale a casas mi venis de chomsky de ne estas lingvo al estas lingvo ca mi havas l'impression che ti ne devas fare ne devas informi la linguist ne suficias informi nur un uop ne devas vere informi mult se ni informas mult ni ancora havas cerno de homo che plus disfastigas iu mito de pasidenta tempo mi volas iom compari ancora esperanto con la angla tio quion la externa mondo ya racontas a ni estes que la angla succesis che esperanto mal succesis che se ni riguardas la ciutag comunicadun en la mondo ni apovas constati che la angla lingua estes vaste usata che esperanto ne do scheine la affera estes clara sed che oft en la vivo se un suficio longa al regardas iu non trovas nove aspecto se guardas la situazione in 1888 except aspecto contraste estis proximum cent milioni da homoi chi parolis la angla chi denas candinbom dotio esta simple la sumo de la loggianto de britio ca usano estes iu proximum a nombro doni povas constati che tiam la relato inter esperanto ca la angla estes 1 al 20 milioni che se ni nun rigardas la centride chiaro ni povas constati che ho dio esperanto estes cutime ciet tie che estes proximum quindec lingvoi sed plai last tie ciet estes cent lingvoi do della plai last loco esperanto preteriris multa multa in lingvoin che alvenis en la guida gruppo che se ni rigardas la nombra relato inter esperanto ca la angla ni povas constati che la relato estes proximum uno al mil ne plus uno al durec milion sed uno al mil esempio estes tie che jara publicizzas proximum cent durec libroi cent durec esperanto libro ca in la angla eble publicizzas tricent mil o quincent mil libro do tia tia la relato estes eble uno al quarmil ca in aliei campi exemple la mi leghi statisticon pri la texto quanto interretto tiam la relato est is uno al quinto cent cae anche c'è c'è vikipedia la nombro de rigardo all'esperanto pagio compare con la angla lingvae pagio est anco proximum uno al quinto cent ca se ni rigardes in hungario esperanto est mult lernata tot tie eble mesum la relato est en la region de uno al cent sed ciu casa tiu detalo in est interesse ni al venis ni progresis mult tege ni progresis de uno al durek milion oi alla odiava stato de uno al mil mi volas iom racconti mian presenton cial fact de la angla successis atingi tiunchi posizion ca esperanto ne ca mi diru eble un nu mian opinion pre esperanto ca tiunchi est nu esperanto est nova afero ca gi est ne con nata ca gi simple progressas mal rapide cial cioi nova afero ni cioi conas almeno iun cio havas post telefonon vero cian presco cioi el ni havas post telefonon ca ni havas l'impression ciet iui post telefonon o portebla telefonon venis alla mondo eble in la 9 deca jaro eble 8 deca jaro ca ni eble audis pri autotelefon noi in la quind deca jaro sed fact existis portebla telefonon en trae noi iam en la du deca jaro to la tecnico ofte besonas tre 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 longan tempon o eble nadia direkton tre 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 longan tempon jis kiam iam la afero gainas iom plida elano ca un facile subtaxas tiun ci comence en tempon ca mi havas l'impression que la odiava esperanto es multe multe pli tauga por facte habi sian funccion de internazio lingvo oggi estes exemple en la quindeca o sesdeca jaro molto multa manca stiam sed mi volis paroli pri tiun che la angla lingvo successis che la mia impreso ogni devas reiri dis la jaro circa 1750 quiam estes giuste en anglio che comence dis la industria revoluzio occazis che tiun estes giuste un lue en angla lingva lando cae tie la productato crescis cae crescis cae anco in ussono la productato crescis cae protio estes tie che in la jaro 1900 la angla lingva lando ussono cae britio havis proximum quarte quin procento della tut mondo productato simple protio che elli rilata alla industria estes tie l'antala l'iai landoi ca estes anco en la campo de scienza pubblicato che la angla lingva estes iam anto la franza cala germana en 1880 simple protio che un flanque la scienza è base per tecnico è base per industria che alli flanque industria produttas monon richaggio che non possano usare per scienza por pagi homo in por pagi material cai do tiam la angla lingva economio cala angla lingva scienza e publicato e avisa iam tre fortan posizion cai tiam ocasi io che in versine in 19 normal non multa homo ipo visant ovidi nome homo emigradis al usono usono havis proximum 75 milion da loggianto in 19 cent cai gi havis la du oblon 150 milion da loggianto in 19 cent quindec cai denove la loggiantado de usono du obligis gis la jaro du mil tricent milion da homo cai tio simptu signifis grandegan subtenon alla angla lingua scienzo de usono estes cai campoi do contraste germanio eble estes simila loggiantada nivelo ciel usono circa 1800 octech sed hodio estes octech milion da loggianto de germanio que estes nur quarono de tio que estes en usono to stas clare que tiu quarono productas multe mal pi da cienze e publica joe o la quà robla loggiantado de usono po vos producti domi diras che tiu ci fortega posizio della angla en las cienzoi es es la baso por la progresso della angla en la mondo char on ne pova sangition por la evoluinte landoi la cienzo es es la baso de ilia ricetzo de ilia tecnico de ilia industrio cado oni debis lerni la angla chiam on esti siencisto por povi legi la duonon della scienza literaturo cai se la siencisto deva si la angla anca la studento deva si la angla in la lernia deva lerni la angla tot io signifis che ciui tiui homoi devis lerni la angla ca iam anca eblis interparoli en la angla ca tie la angla pli ca pli progressis ca tio havas anca consecvenson por tio cio cio ni povas diri pri esperanto nome iam esperanto havis la argumento est neutrala lingua cio ad exemple germano con italo devis interparoli au en la germana au en la italo do in amba o casoi ne neutrala varianto hod dio oni ofte interparolas en la angla cae tiu angla estas neutrala in tiuci rilato do oni devas constati che tiuci argomento de neutralezzo iris alla angla cae ni ne plupovas vere concorrenzi tie sed contraste restas ni argomento che esperanto est rapide lernebla che oni atingas altan nivellon en esperanto se oni same bona o ets pli bona studas same multe dum same multa tempo studas gin oni sentes in pli cae pli hei metze en esperanto cae est anca o tie ca esperanto trans donas la senton cae gie estes la comuna lingvo de cioi que parolas gin cae homoi nomas gin nia lingvo cae l'accento estes ecstiel forte che ne parolas pri la verda popolo to lingvo facile creas popolon cae tiel anca estes en nia caso parolas pardonu Mi avessi l'impressione che noi avevamo un vero grande senso da origi di questa battaglia tra l'Esperante e l'Angla. Mi avessi l'impressione che l'Angla si è in posizione, che vivevano, e l'Esperante si è in terreno, che vivevano, e il progresso per l'Esperante è certo che noi cresciviamo e cresciviamo questa lingua. E la mia opinione è che se noi vogliamo subtenere, noi dovremmo informare l'externo mondo per l'esperante che è fatto a casa in l'Esperante. Per i miei rinconti, per i miei libri, per i canti, per i prelegi, per i filmati che esiste su YouTube, per la tuta l'Esperante cultura. Per i miei messaggi dovremmo portare l'externo per le comunicazioni, le gazette, la radio e la televisione. sono sicuramente dovremmo portare l'esperante, le due gruppi, che appartano l'esperante linguistiche, che informano i giornalisti, politici, che fanno la tutta la pubblica, e anche per i miei instruisti, che informano i nostri studenti. mi speras che i miei successi transdoni alvi miei entusiasmon per l'Esperante, e il mio entusiasmo e la gioia per la crescita dell'Esperante comunismo, e delle diverse applicazioni dell'Esperante usate dell'Esperante. mi spero di convincere, che essere più saggi in l'externo vivo usi l'esprimio dell'Esperante comunismo, che è successo, ma non più l'esprimio dell'Esperante movato, che già nell'externo mondo acquisito la fama, non è successo. mi spero di salvi tutti, bellan Samenhof an feston, e mi esprimio i miei grazie alla memoria di Ludovico Samenhof, che è successo, 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 che è successo. Molte grazie. Mi chiediamo molto a Dr. Wolf Wolf per il suo interesse molto interessante. In realtà sono buoni memorizzati per noi, non perdono nessun entusiasmo, perché non ci siamo pensati per la nostra esperanza vivo, ma solo per quello che noi deviamo organizzare. Molte cose, non c'è? Mi chiediamo molto, mi è piaciuto che vi restate con noi, che vi venite a tutti in Germania. Grazie a tutti. Mi voglio un momento di ringraziare il gruppo di visitante in della mia gemella, perché vi ricordo che Torino ha una lunga storia comunale con Chambéry, in Savoia, che da molti argomenti sono nella stessa regione, nella stessa regione, nella stessa regione. Poi Torino trascendono il ruolo della Cefurbo di Chambéry, e ci restano ancora alcuni argomenti del Cefurbo di Savoia. e ci sono un po' di ringraziare il gruppo di Chambéry. e ci sono un po' di ringraziare il gruppo di Chambéry. E ci sono un po' di ringraziare il gruppo di Chambéry. e ci sono un po' di ringraziare il gruppo di Chambéry. e ci sono un gruppo di Chambéry.